ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Iprogredita e oggi siamo su PS17 allora ho fatto tutti quei video, sono pre-registrati eppure questo sarà pre-registrato perchè io non ho voglia di giocare ragazzi quindi faccio un modello di video oggi volevo prendere un giocatore, cioè Eder, ricerca avanzata, squadra club non ci sono dove gioca Eder, quindi scrivo Eder Orocolai Eder, ricerca avanzata, questa è una nazionalità internazionalità, richiesta presito per un anno io me lo compro direttamente perchè è molto bello, ok, ora mi ho fatto la richiesta di trasferire i video di Eder la formazione è questa, io devo lasciare questa, 94, di Malmanzovic, di Torres, perchè sono giocatori molto forti, buffon, va bene che oggi con la partita più e più è andata malissimo, 1-1 Udinese io sto dicendo dopo, ora e si inizia per la partita Juventus-Roma per le serie, a team, diciamo Juventus-Stadio però devo mettere lo Juventus-Stadio con lo Juventus-Roma non cerca di vincere ragazzi intanto ho giocato per ieri ho giocato una partita da solo contro l'Udinese tra punto 2-1 poi l'ho fatto gli scampi oh bella bella, è bella ragazzi ok non c'è una Roma attacca ragazzi la vedo forte la Roma bene, una volta che l'ha portato fuori tiro dalle mani per loro e dai bufond miracolo di bufond totti voglio vedere il replay lo cavolo ha colpito bufond nella mano ok nel vivo ovviamente perché coroner per loro ah caccia cavolo chi è chi sei tu sarà e vai e se qua fa questo lo sape c'entrava ma mi cazzavo allora non voglio vedere il replay 21 c'è anche di bala tiro dalle portiere caccia ci siamo mangiati un gol che era stupendo raga io ho un corso penso a quello ok bella bella ragazzi dai dai attaccare non fa male però se ti prendevi la palla era meglio bomba cazzo dovevo fare il cross raga e raga il primo tempo 1 a 0 io faccio modifiche alla squadra 79 77 vabbè passaggio possesso palla proprio 39 io farei un po' di cambi ok ragazzi siamo in campo attacca la roma inizia la roma allora per voi è passato un secondo per me 30 minuti perché si è andata a mangiare quindi adesso sono pieto di mangiare tipo sono tipo sazio buffon bravo buffon si la porta la porta palo bella 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 palo palo ok inizia la roma si difende la roma inizia la juve salta un giocatore non so chi è bella 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 io ho ciò che è il gioco a medio c'è il mondo a me che non lo muovo più è che io ho per forza ci devo continuare poi che bella bravo bravo bella 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 ciaf phone non voglio dire prese spiegazione mi vuoi informare a giugno ci sarà una nuova serie mi sembrava gol invece era fuori mi stavo dicendo che a giugno ci sarà una nuova serie cioè i mondiali nel 2018 io voglio fare un po' in anticipo voglio vedere se vincere l'italia o prenderà nei mondiali squadra datata da ventura poi l'avventura sgambetto ah fuori va bene bella partita ragazzi bella ho fatto ridere quello che ci sarà il replay in quella parte però bella partita dai ragazzi mi è piaciuta la roma ha soffrito un po' nel secondo tempo ha un po' soffrito 82-83 per poco ragazzi va bene le rossi è qua credo il numero migliore sia nessuno 6-6 un po' di giocatori ok voglio vedere un po' quanti ci hanno dato la Sampdoria bla 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 internazionale fede con defino pescara oddio della sola pure prima va bene fede con defino pescara noi siamo classificati 19esimi ci avevano ancora più scesi mannazzi ok qua c'è il giorno delle trattitive mi è un po' si sono allenate ok ma anche grazie mi hanno arrivato l'esperimento vabbè prendere un altro giocatore ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto di commentare e iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video me lo